La Corte, letti gli articoli 533, 535 e codice procedura penale, dichiara Materazzo Luca colpevole del reato che lo ha scritto e lo condanna alla pena dell'ergastolo. Ore 21.45, Aula 115 del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2019. Dopo quasi 5 ore di Camera di Consiglio, la Corte di Assise, presieduta da Giuseppe Provitera, condannato al carcere a vita nel giorno del suo 38esimo compleanno, Luca Materazzo, per aver accoltellato a morte suo fratello Maggiore Vittorio, sotto casa il 28 novembre 2016. La lunga ringa del suo sedicesimo avvocato e un'ennesima dichiarazione spontanea, durata oltre 105 minuti, non sono bastati ad evitargli l'ergastolo. Il delitto è quello di Viale Maria Cristina di Savoia, quando il 51enne Vittorio Materazzo è stato trucidato con 39 coltellate, l'ultima alla gola. Elena Grande, moglie dell'ingegnere ucciso, è scoppiata in lacrime alla lettura del dispositivo. C'è soddisfazione per aver dato una risposta in tempi ragionevoli alle persone offese, ha spiegato il magistrato. Gli avvocati Arturo ed Enrico Froio, che hanno assistito Elena Grande, hanno commentato un verdetto ineccepibile. L'istruttore ha escluso qualsiasi altro epilogo. C'è soddisfazione, ma non c'è gioia da parte di nessuno per una vicenda così drammatica, per una storia tanto atroce.